Salve, è vero che mi occupo di sindacato e quindi siamo poi uno di quelle organizzazioni che naturalmente per statuto siamo apolitici, apartitici, più che altro apartitici e quindi naturalmente nel momento in cui facciamo attività sindacale non possiamo fare attività politica. Però consentitemi che in un particolare momento noi siamo una forza sindacale e interloquiamo con tutti, però non ci si può in un momento particolare come quello che sta attraversando il nostro paese Italia non esprimere un'opinione in merito a quanto stia succedendo. Ebbene il governo che ci ha preceduto rispetto a questo è stato delegittimato e quindi naturalmente perché secondo una valutazione di ordine politico non aveva prodotto i risultati che il paese sperava e quindi automaticamente si è messo mano subito a dar vita ad un nuovo governo con una personalità autorevole che tutti quanti noi conosciamo in ambito europeo, quello che è la personalità di Draghi e quindi del suo trascorso lavorativo, del suo impegno e della piena fiducia che è stata data. Però quello che non riusciamo noi ad incassare, dico noi in qualità anche di forze sociali e di cittadini italiani è che nel momento in cui si metta su un governo di solidarietà nazionale, di emergenza e nel momento in cui si passa a quelle che sono i provvedimenti che riguardano milioni di cittadini, di italiani non si può non dire sì a quel tavolo perché si è dato un impegno rispetto alla nazione e rispetto ai cittadini e non si può fare il doppio gioco come una volta si diceva, forza di governo e di opposizione per salvaguardare poi quelli che sono i cosiddetti sondaggi che nel paese forse molto probabilmente stanno premiando qualche partito di opposizione che spavaltamente cerca di mettere fuori osservazioni, considerazioni che poi non si capisce una volta riconosciamo il ruolo, una volta non lo riconosciamo e via discorrendo. Quindi o si sta dentro o si sta fuori e non ci si può permettere il lusso di non votare un decreto per quanto riguarda la questione di un paese come le scelte che sono state fatte in merito a quelle che sono o non sono le riaperture o meno opporsi a questi decreti significa mettere in discussione tutto quello che il mondo scientifico ha suggerito e ha consigliato alla classe politica perché sappiamo bene la classe politica si muove in virtù di quelle che sono le indicazioni del mondo scientifico. Quindi non è possibile avere l'accettazione e l'ambiguità di qualcuno che possa stare con un piede dentro e un piede fuori. Ma questo sfogo dovevate consentirmelo perché io non accetto che si possa interpretare questo doppio ruolo perché oggi il paese ha bisogno del contributo di tutti quanti e solo con il contributo di tutti quanti e con i sacrifici di tutti quanti noi possiamo cercare di rialzarci. Questo è il problema. Quindi anche per la questione del recovery plan adesso ha qualche partito che chiaramente ha voluto a tutti i costi la quota 100 e adesso in queste recovery plan non c'è più la quota 100. Che ruolo interpreterà? Domanda. Che ruolo interpreterà? Questo è il discorso. Il discorso di questa quota 100 comportava naturalmente che bisognava che si facesse spazio ai giovani perché naturalmente agevolava il compito di lavoratori con un certo numero di anni iniziando da 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributo di poter lasciare il lavoro in anticipo. Adesso tutto questo naturalmente questo beneficio che non ha prodotto alcun tipo di occupazione si sta cancellando. Anche in questo vediamo che tipo di coerenza questo tipo di coerenza da parte come dicevo di qualche partito. Perciò quando si assumono impegni dove il paese ti sta chiamando perché ha bisogno attraverso appelli fatti dal presidente della repubblica di fare un passo indietro per il bene della nazione. Quindi questo deve essere il concetto che dobbiamo interpretare un po' con tutti quanti. E in questo momento le forze sociali si giocano alla loro credibilità perché attraverso questi progetti del recovery plan naturalmente che devono realmente fare in modo che il nostro paese inizi veramente a rialzarsi con una serie di investimenti mirati un po' in tutti i settori e quindi effettivamente dobbiamo cercare tutti quanti insieme perché quello che è evidente come difficoltà è quello di concretizzare questi progetti. Questa è la cosa più difficile concretizzare i progetti e io in qualità di responsabile nazionale voglio dire di una organizzazione sindacale uomo del sud e nutro forti preoccupazioni perché il sud veramente deve essere attenzionato in questi investimenti con una forte disoccupazione di giovani che non hanno più fiducia nelle istituzioni, delle donne che vengono sempre più discriminate dal mondo del lavoro. Sono queste le cose nella quale uno deve confrontarsi e noi come forze sociali siamo impegnati su questo fronte per fare in modo che il governo deve essere indirizzato a questo tipo di investimenti. Ecco perché non accettiamo questi atteggiamenti da parte di qualcuno che mira solamente a fare propaganda, che mira solamente a sondaggi. Noi abbiamo bisogno di persone che veramente vogliono il bene della nazione. E sinceramente in questo momento nutriamo che da parte di qualcuno non lo vogliono il bene della nazione perché si mira solamente ad egoismi individuali e alla crescita del proprio orticello. Io credo che in questo momento il paese ha bisogno di essere veramente reso da forze unanime al di là delle varie divergenze e delle varie appartenenze disteccati. Quindi bisogna mettere da parte ideologie e interessi ma mirare soprattutto alla crescita del nostro paese perché se si va avanti così veramente è la fine. Stiamo vedendo nel paese quelle che sono le cosiddette manifestazioni spontanee perché veramente non ne possono più perché stanno rasentando veramente la fame e ci sono tantissime famiglie che veramente non possono mettere il piatto a tavola. Questo deve essere un concetto sacrosanto. Però ricordiamo tutti quanti noi che se non si esce fuori da questa pandemia noi non possiamo mirare veramente a iniziare di nuovo a vivere. Ecco perché allora il primo passaggio è quello di osservare bene le regole per quanto riguarda la salute di tutti quanti noi. Una raccomandazione la voglio fare ai giovani che ho tanta fiducia però notiamo che si è troppo superficiali. Nutriamo tanti assembramenti senza mascherine da parte dei giovani. Questo non va bene assolutamente perché potreste tornare a casa e conteggiare qualche genitore anziano o qualche nonno. Non va assolutamente bene. Se vi volete bene e volete bene la vostra famiglia dovete osservare le regole che ci vengono impartite dal mondo scientifico e dal mondo istituzionale. Questa è la cosa importantissima. E poi quando siamo chiamati a sottoporci a tamponi e altra specie di esami dove possono accertarsi effettivamente se ci sono gente affetta da Covid o meno dobbiamo andarci e non aver paura di non andarci. dobbiamo andarci perché nel momento in cui vogliamo bene a noi stessi dobbiamo avere rispetto anche per la salute degli altri perché nessuno di noi può sapere se in quel momento veramente è affetto da Covid e quindi possiamo danneggiare anche la salute degli altri oltre che la nostra. Perciò quando veniamo chiamati dai primi cittadini dei paesi dove naturalmente invitano i genitori e figli in particolar modo adesso con l'apertura delle scuole superiori per verificarne se siamo o non siamo affetti. Dobbiamo sottoporci ai tamponi e non avere alcuna preoccupazione perché se me ne viene la conoscenza basta restare un po' a casa con qualche attenzione ne veniamo fuori e in questo modo tuteliamo la nostra salute e quella degli altri perciò dobbiamo avere anche rispetto della salute degli altri ma soprattutto osservare le regole che ci vengono impartite. Questa deve essere la cosa più importante che possa regnare in ognuno di noi altrimenti non ne veniamo fuori con uno sforzo, ripeto, di tutti quanti ma soprattutto di coloro i quali ci rappresentano ad un certo livello invece delle diatribe invece dei conflitti invece degli interessi propri degli egoismi e quant'altro quello che deve regnare è in ognuno di noi e deve essere messo al centro della nostra azione è l'interesse dell'Italia e dei cittadini italiani questo voglio cercare di far passare come messaggio noi come forza sociale dell'organizzazione Ursa Ferrovie stiamo facendo una campagna di civiltà per quanto riguarda la campagna vaccinazione perché siamo stati esclusi e abbiamo fatto un secondo sciopero e ce ne scusiamo anche con l'opinione pubblica se abbiamo arricato qualche danno però ecco questo significa non solo tutelare la salute dei lavoratori ma soprattutto quella dei cittadini grazie e buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti